Ciao bellezza e ciao ragazzi oggi video tag sul Natale io adoro questo periodo dell'anno e quindi ho detto perché non fare un video l'anno l'ho fatto in tante questo video ma volevo farlo anch'io e quindi eccomi qua a fare appunto questo video video tag che si chiama Aria di Natale se volete siete tutte tangate a rifare appunto questo video tag io vi saluto, vi mando un abbraccio e iniziamo questo video prima domanda film preferito sul Natale non ne ho uno preferito in assoluto mi piacciono molto i film comici natalizi tipo quelli di tanti anni fa che facevano Cristiane Sica, Massimo Voldi Enzo Salvi e Biagio Izzo e Ficchidindi eccetera avete sicuramente presente i film di questi attori poi preferisci di più La Vigilia o Il Giorno di Natale mi piacciono tutti e due i giorni non ne preferisco uno tra i due assolutamente no sono belli per me tutti e due poi un posto in cui ti piacerebbe passare il Natale in montagna sì sicuramente con la neve io adoro la neve mi piace sciare sì la montagna sarebbe il posto bellissimo per passare il Natale poi hai delle tradizioni allora andare a messa alla Vigilia di Natale sicuramente secondo me almeno per me è una tradizione poi mangiare diciamo fare il cenone o fare il cenone della Vigilia o mangiare il pranzo di Natale ma credo sia la tradizione di qualsiasi persona nel mondo comunque sì queste sono le mie tradizioni e poi vabbè fare i regali ovviamente non il 24 ma molto prima se si può anche due settimane prima e basta sì vabbè dormire la famiglia questo è ovvio allora preferisci le luci bianche o colorate assolutamente luci colorate sull'albero soprattutto perché diversamente le luci né bianche né colorate in casa non le usiamo se non le lampadine per i lampadari ma vabbè sull'albero luci colorate e mi piace anche vederle in giro le decorazioni con luci colorate poi un prodotto make up tra la tua collezione che ti piace indossare nel periodo natalizio non ho un prodotto di make up a parte che non ho una collezione make up però non ho un prodotto di make up che mi piace indossare a natale no non è proprio un prodotto di make up ho degli accessori che mi piace indossare nel periodo di natale tipo delle collane tipo dei bracciali quello si mi piace gli stivali con un po' di tacco mi piacciono però non sono prodotti di bellezza sono accessori quindi scusate se non ho risposto benissimo alla domanda poi ti piace indossare no scusate il natale ha mantenuto la stessa magia anche ora che sei casciuta allora un po' si perché io sono una che sogna occhi aperti che sogna sempre e comunque quindi per me il natale ha tanta magia ha una magia e l'ha sempre avuta però diciamo che è diminuita rispetto a quando ero piccola e rispetto ad adesso perché perché da piccola era più bello si sognava di più adesso si sogna un pochino meno e bisogna avere più i piedi per terra ci sono più pensieri più problemi lavoro e salute eccetera eccetera quindi si vive meno tra le nuvole diciamo però la magia del natale io la sento anche adesso alla mia età anche se non sono più piccolissima allora queste erano le domande del video tag spero vi sia piaciuto e farò sicuramente altri video sul natale lo caricherò presto questo video volevo dirvi anche se non c'entra niente con il video sto imparando a fare i montaggi quindi non vedrete più sbarrellamenti non vedrete più spezzettoni di vlog fatti molto molto male sto cercando di fare dei video decenti spero di avervi fatto di avervi tenuto compagnia devo non balbertare e devo parlare più tranquillamente spero di avervi tenuto compagnia con questo video tag vi saluto vi mando un abbraccio e tanti auguri già in anticipo buon natale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti